Ben trovate cari amiche e cari amici di Rubino Immobiliare, quest'oggi una nuova puntata del podcast Rubino Immobiliare News e sono con un altro dei titolari della Rubino Immobiliare, cioè con Gaetano Talba. Benvenuto. Salve e buona giornata a tutti. Allora Gaetano, il tema della puntata di oggi sono alcuni aspetti fiscali e se vogliamo anche legali legati ad una compravendita. Mi vengono in mente subito delle agevolazioni che ci sono in favore dei ragazzi, dei giovani, degli under 36 per acquistare la prima casa. Di che cosa si tratta? Beh, cioè chi acquista la prima casa, le imposte di registro sono quelle ordinarie e quelle agevolate. Le ordinarie sono al 9 più le imposte fisse, quelle agevolate sono al 2 più le imposte fisse. Quindi chi compra la prima casa, non ha altre proprietà, usufruisce del 2% calcolato però non sul valore ma sulla rendita catastale. Non si tiene conto del prezzo stabilito fra le parti ma della rendita catastale. E su quella si applica l'imposta di registro che se è agevolata è al 2, se è ordinaria è al 9. Beh, è una bella differenza. Sì, tantissimo, sì, certo. Considerando che comunque c'è un'imposta minima che è 1.000 euro, quindi comunque si paga 1.000 euro. 1.000 euro di base, può essere qualcosa in più ma in meno sicuramente. Se il calcolo dà un importo inferiore a 1.000, si paga sempre 1.000 ovviamente. Ed è una misura che stai riscontrando nel tuo lavoro? Ha successo? Sì, sì, tantissimo. Infatti c'è un risparmio notevole perché si considera che su un valore fiscale di 50.000 euro si passa da 5 al 2%, a 1.000 euro. Certo. Quindi c'è un risparmio di 4.000 euro su una rendita di 50.000 euro. Ci sono alcuni aspetti che consentono alla giovane coppia o al giovane singolo, insomma, di accedere a questa misura. Una di queste è legata alla residenza. Cosa deve fare? Beh, sì, deve ovviamente, chi chiede le agevolazioni fiscali prima casa deve prima possibile trasferire la residenza, anche perché se non trasferisce la residenza nel periodo in cui non ha trasferito la residenza, paga l'Imu. Sulla prima casa l'Imu è esente, quindi consigliamo di trasferire quanto prima la residenza. Un altro aspetto importante, nel momento in cui dovesse decidere, sempre l'acquirente o la coppia di acquirenti, non fa differenza, dovesse decidere di rivendere casa perché magari quella prima casa non va più bene, è stretta, perde le agevolazioni o ci sono delle modalità? Assolutamente no, non perde le agevolazioni. Chi ha acquistato chiedendo le agevolazioni fiscali può rivendere perché può cambiare la situazione familiare, la situazione lavorativa, può essere trasferito in un'altra città, quindi può rivendere purché entro 18 mesi ricompra un altro immobile. Diciamo ancora di più che addirittura utilizza il credito, si porta nel nuovo acquisto a un credito che va a pescare dal primo acquisto. Quindi l'imposta pagata sul primo acquisto la recupera, quindi o va alla pari o sarà una differenza eventualmente. Senti, e qualora decida di vendere casa, la questione prima casa come si risolve? Deve acquistarne un'altra? Beh sì, per conservare i diritti deve acquistarlo un altro dentro 18 mesi. Diversamente deve restituire allo Stato l'imposta risparmiata più il 30% di mora su quell'imposta risparmiata. Quindi diciamo... Cioè che è il 7% sul 6, deve restituire il 7% più il 30% sul 7%. Diciamo che è una misura pensata veramente per chi sta iniziando ad acquistare casa per la prima volta. Senti, passiamo invece ad una seconda casa. È vera la vulgata per cui ci sono così tante tasse che non conviene acquistarle? No, assolutamente no, perché anche se l'imposta è più alta, però si applica sempre sul valore fiscale, non su quello patuito fra le parti. Quindi in alcuni casi addirittura si avvicina molto a quella agevolata, se la rendita catastale è bassa. Ci sono delle differenze. E poi c'è l'IMU da pagare e anche lì l'IMU viene calcolata sulla rendita. Quindi se abbiamo un immobile con una rendita bassa, non è assolutamente oneroso avere una seconda casa. Quindi non è lo status di seconda casa che fa avere una tassazione diversa, ma è sempre il valore della stessa. È sempre il valore della stessa. Se ha un valore fiscale contenuto, non è impegnativo avere economicamente una seconda casa. Non c'è alcuna penalizzazione. Assolutamente, assolutamente no. Anche perché, e qui vengo alla tua collocazione fisica, insomma, soprattutto nella sede di Monopoli, stanno tornando di moda le seconde case, quelle al mare? Sì, sì, sì. Noi abbiamo una richiesta altissima di seconde case al mare. Certamente poi Monopoli è una città bella, come ce ne sono tante in Italia, e quindi è un obiettivo di tanti avere una seconda casa al mare. Anche perché la puoi usare personalmente, però si può fare un uso personale, e si può anche affittare, si può utilizzare come struttura ricettiva con una redditività altissima. Poi cambia l'editività in base alla consistenza, alla posizione, insomma. Senti, è molto diffuso, immagino, sempre per restare in ambiti fiscali e legali, l'acquisto come investimento. Oggi acquistare in una determinata zona di una determinata città, come il centro storico di Bari o la zona vicina al mare di Monopoli, può voler dire acquistare non per andarci a vivere, ma magari per investimento, e quindi per rimetterlo in locazione, lunga o breve. Che idea ti sei fatto? Quali sono le tendenze del mercato? Le tendenze sono... Noi abbiamo percepito in questi ultimi anni un aumento della domanda per le case, per gli investimenti, insomma. Perché ovviamente altre forme di investimento più redditizie dell'immobile al momento non ce ne sono. Quindi chi ha dei risparmi preferisce investire, preferisce ovviamente rendere di più e quindi investe sul mattone che rende di più. Si dà anche più sicuri da un certo punto di vista. Certamente. Altre forme di investimento, penso a quelle finanziarie ad esempio, ti impongono delle competenze che normalmente non si hanno e quindi poi si corrono dei rischi, delle paure, mentre il mattone... Il mattone è sicuro, l'investimento migliore che ti ha. Sai che sta là, vedi le condizioni. Perché a rendere poi in alcune zone si hanno anche delle rivalutazioni nel tempo. Ovviamente non è un investimento a breve termine, questo lo dobbiamo dire. Diciamo che l'utente non deve aspettarsi un aumento del valore a breve termine, deve almeno aspettare dieci anni. Nel frattempo rende, perché se è utilizzata come struttura ricettiva, soprattutto in Puglia, è una regione presa d'assalto dai turisti. A proposito di questo e per concludere la nostra chiacchierata, la Rubino Immobiliare ha attivato un nuovo servizio che consente di gestire le locazioni brevi. Ce ne vuoi parlare? Sì, stiamo per mettere in atto questo progetto che prevede la gestione per chi magari acquista può subito affidare a noi la gestione di questi immobili. Siamo noi che ci occupiamo, ovviamente. cerchiamo il conduttore, il turista, insomma, per quell'immobile. Quindi può fare sia l'acquisto che la gestione. Può fare l'investimento, acquistare, fare un piano di rientro, di guadagni e affidare anche a voi la gestione operativa dell'immobile. Quindi questo lo sblocca anche dalla presenza fisica. Certamente, non deve occuparsi, si deve solo limitarsi a comprarlo, fare l'acquisto, diventare proprietario e poi affida a noi la gestione di questi immobili e dovrà solo poi percepire la rendita. Certo, questo vuol dire che puoi attrarre anche investimenti. Si ritroverà poi sul suo conto. Eh sì, questo vuol dire che puoi attrarre investimenti anche da fuori città. Certamente, sì, ma non solo da fuori città, dall'estero. Va bene, grazie Gaetano per questa chiacchierata e alla prossima. Grazie a voi, buona giornata a tutti.